Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi qui c'è un fungo a vespa. Allora, non è un fungo a vespa, è un fungo alicottero. Scusate, mi sono sbagliato. Ok, inseriamo. Scusate. E inseriamo un euro. Allora, ecco qua, vediamo cosa esce sullo schermo. Delle coccinelle. Guardate. Purtroppo qua una volta c'era il razzo missile, che purtroppo l'hanno tolto. Vi volevo fare lo short per farvelo vedere, ma non sono riuscito più a farlo perché hanno messo questo qua. Comunque è sempre dei volanti girevoli. I suoi bussanti vediamo se fanno effetti sonori. No. E' lo stesso del razzo. Fanno aiutare il razzo a fare... Quella, guardate. Qua ci sono delle formiche e delle coccinelle. Che fanno? Volano. No, io non conosco questo cartone. No, neanche questo cartone. Non lo conosco. Ecco qua c'è il delfino dell'altra volta. Andando di qua ci sono altre giostre. Aspettate, se il fungo va di qua vi faccio vedere le giostre che ci sono. Aspettate. Aspettate. Ecco, guardate, qua ci sono altre giostre. Poi ci sono delle coccinelle e questi volanti. Guardate. Questo è il coccinello qua. Guardate, dopo vi faccio anche uno short per farvelo vedere meglio questo fungo. Ok. Guardate, che stanno guardando? Ah, stanno addormentando. Dicono, devono fare silenzio. Guardate. Stanno volando. Guardate che si arrotolano. Questi sono ricci. Non so perché si arrotolano. È finito. Ciao ragazzi, al prossimo video.